L'ubicazione del nuovo ospedale provinciale di Teramo infiamma il dibattito cittadino. L'ASL dichiara di aver ricevuto proposte edificatorie solo per l'area di Piano D'Accio e non per Villa Mosca, dove attualmente c'è il vecchio Mazzini e dove il coordinamento dei quartieri teramani vorrebbe veder sorgere il moderno nosocomio. La scelta del sito spetta al Comune di Teramo e l'accusa che le associazioni oggi rivolgono all'amministrazione è quella di non aver previsto tra le aree possibili anche Villa Mosca. Onorevole, ma perché voi insistete su Villa Mosca? L'ASL dice che non ci sono gli spazi. Il problema è che noi non vogliamo essere presi in giro dai vertici della ASL, in quanto da più parti si è detto che purtroppo non arrivavano progetti sull'area di Villa Mosca. Il fatto è che proprio l'area di Villa Mosca non è mai stata concretamente e giuridicamente presa in considerazione. Tant'è che anche nell'ultima delibera del Consiglio Comunale, che spesso viene citata dall'ASL, questa delibera non è giuridicamente vincolante perché ha approvato un mero ordine del giorno, quindi un mero impegno che di fatto è, se vogliamo, carta straccia dal punto di vista giuridico. Quindi noi chiediamo ufficialmente un Consiglio Comunale proprio per deliberare l'integrazione di quest'area all'interno della pianificazione sanitaria. Che l'amministrazione comunale non abbia considerato affatto l'area di Villa Mosca per lei è una follia. Sì, a me sembra un po' strana questa cosa perché le aree sanitarie che si contestualizzano all'interno del territorio comunale sono preventivamente indicate come luoghi pubblici. I luoghi pubblici sono governati da un regime particolare in ambito urbanistico, cioè il dichiarare un'area satura o meno è legata ad alcuni aspetti di convenienza, a nostro avviso. Perché? Perché dico questo? Perché il parcheggio che hanno realizzato al Mazzini, l'area era satura, però per poterlo fare si sono avvalsi di quelle dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che la norma consente e quindi con questa si riescono a fare determinate operazioni. Alla discussione promossa dai quartieri sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Il primo cittadino ha rassicurato tutti che nel prossimo consiglio comunale la delibera contestata sarà integrata con l'area di Villa Mosca. D'Alberto invita però a non abitarsi sul sito del futuro ospedale provinciale, ma piuttosto sui finanziamenti per realizzarlo. Fino ad oggi sono stati stanziati 80 milioni di euro e ne mancano altri 80. Una necessità impellente che il sindaco di Teramo ha avanzato personalmente al Premier Conte.